Ok, dovreste vedere le slide, sta registrando, appunto quindi diciamo a titolo di liberatoria vi comunico che siamo registrati e poi questa registrazione potrebbe diffondersi, quindi se fate domande o vi appalesate con il vostro nome e cognome sappiate che potrebbe comparire, non credo che ci siano particolari problemi perché non stiamo facendo nulla di particolare, stiamo facendo un corso di formazione. Quindi eccoci qua, elementi diritto d'autore applicati alla biblioteca, è un titolo abbastanza descrittivo ma secondo me ben centrato, io ho messo aggiunto tra parentesi per fare un po' la somma del titolo dei due incontri con discussione dei casi pratici, come vedrete i casi pratici io li discuterò in realtà di volta in volta, cioè per ogni argomento che trattiamo cercherò di farvelo arrivare, farvelo capire, comprendere meglio cercando di calarlo nella vostra realtà, nella vostra attività quotidiana. Io ho fatto anche come avvocato non solo formazione ma anche consulenza da alcune biblioteche, quindi conosco quali sono anche le problematiche che le biblioteche possono incontrare dal punto di vista proprio strettamente legale, quindi liberatorie, problemi con autori, con archivisti che hanno riclamato questioni, non so, gestione degli archivi fotografici, mi sono occupato un po' di queste cose. Staremo insieme per due incontri e cercheremo di fare tutto quello che avevamo messo in cantiere, cioè in effetti quattro ore non sono tantissime per dare una panoramica completa del diritto d'autore ma cercheremo di farcela. Allora, come vi dicevo qua ci sono i miei riferimenti, principalmente vi rimando a SlideShare perché SlideShare è, non so se lo conoscete, è un sito in cui si possono pubblicare le presentazioni slide e in questo sito finiranno anche queste slide che stavamo utilizzando in questo momento, quindi le troverete lì, poi comunque le invio a chi ha organizzato il corso così ve le può far arrivare, però le trovate comunque lì, sono scaricabili, sono sotto licenza open come vi spiegherò alla fine. Nello stesso tempo se qualcuno di voi è attivo sui social media, diciamo che io sono molto molto presente e quotidianamente faccio attività di divulgazione di argomenti che vi possono interessare specialmente sulla pagina Facebook, principalmente sulla pagina Facebook, anche su Twitter, vabbè, ho anche un canale YouTube in cui trovate i corsi di altre lezioni sempre rivolte a operatori delle biblioteche, operatori del settore cultura, degli enti pubblici, quindi potreste lì trovare cose interessanti, altri corsi, altri videocorsi, basta. Troverete anche i miei libri che sono principalmente questi due, diciamo sono quelli da cui trago le cose che vi dico in questo corso e ve li segnalo non tanto per fare lo spot pubblicitario ma perché da questi link trovate proprio i testi da scaricare, sono a loro volta sotto licenza che per la Tic Commons, io tutto il mio materiale normalmente lo rilascio in modalità open e quindi li potete scaricare e leggere, condividere, eventualmente se volete inserirli negli archivi digitali delle biblioteche, ben venga. E qua ce ne sono altri due più recenti, quello che forse vi interessa di più è quello relativo all'open access perché questo è curato da me, io ho scritto un capitolo e ho fatto appunto la curatela, ma gli altri autori sono principalmente vostri colleghi perché Elena Giglia, Valeria Scotti e Vanatruccolo sono delle bibliotecarie che si occupano principalmente di biblioteche scientifiche perché lavorano nelle università e nei centri di ricerca però appunto visto che il tema è quello dell'open access appunto che è l'accesso alla letteratura scientifica di cui parleremo magari alla fine del nostro corso vi può interessare. Poi c'è Nicola Cavalli che è l'editore che quindi porta il punto di vista di una casa editrice.